Rischiano una multa da 500 a 10.000 euro gli studenti che aggrediscono un docente, un dirigente scolastico o un membro del personale amministrativo della scuola. La misura è prevista infatti in un emendamento depositato dal Governo al Senato in Commissione Cultura alla DDL sulla valutazione del comportamento degli studenti. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausilario della scuola o a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, si legge nell'emendamento che quindi è relativo a chiunque aggredisca un professore o un dirigente nelle sue funzioni o a causa di esse, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma proprio da 500 a 10.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. La sospensione condizionale della pena si specifica e comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria, fermo restando il diritto della persona offesa all'eventuale risarcimento del danno. Il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta di modifica in commissione è stato fissato a martedì prossimo.